David Marin ha conquistato il suo primo scudetto in Italia, al suo primo anno in Italia. In un ambiente fantastico, questa sera si festeggia un titolo che qui a San Martino di Luperi è storico, ma che l'eco di questo successo è arrivato anche in Spagna. Sì, chiaro, credo che... Diventare campione d'Italia, logicamente, naturalmente, in Spagna c'è eco, logicamente, credo che è una grandissima stagione, credo che quest'anno è stato difficile, perché l'inizio era difficile, credo che l'andata sia la parte più complicata, perché alla fine abbiamo finito terzi e credo che questo già era un gran posto per noi, perché era vero che ancora la squadra non era fatta. Poi, credo che quando hanno arrivato già tre giocatori in più, credo che la squadra già era più forte, però aveva che mostrarlo. La Coppa si è scappato in rigori e credo che in play-off la squadra è stata fantastica, meravigliosa e credo che i ragazzi meritavano questo titolo. e alla fine è accaduto come frutta matura. Credo che questa è la verità, perché per gioco la squadra ha meravigliato e credo che era il fine giusto a questi film. Quanto ti stai godendo questa festa e sei un messaggio per i tuoi giocatori? Hai che sfruttarla, perché ha stata molta tensione nel play-off. Solo un play-off diventa tensionato. Poi contro la Pescara sappiamo che questa va a essere una guerra difficile e fino alla fine abbiamo sofferto per guadagnare questo titolo, questo scudetto. I ragazzi, solo ringraziarli perché hanno fatto tutto per vincere, si hanno lasciato la vita nel campo e credo che questo lo ha visto tutta Italia e io sono molto contento per loro prima di tutto e poi per la società, per San Martino e per tutti quelli che siamo qua, per tutta questa gente che è dentro a me. Hai una dedica personale per questo titolo? Sempre ti ricordo della tua famiglia perché io sono qua senza la mia famiglia ma anche naturalmente credo che loro hanno potuto venire qua e vedere che io stavo bene qua ma logicamente questo è duro stare lontano dalla famiglia ma credo che il resto sono tutti lo che siamo la Luparense che grazie non solo ai giocatori che hanno stato bravissimi ma tutto lo che compone la società tanto la gente della seconda squadra, Under 21 che hanno aiutato, la gente dell'ufficio tutto lo che fa che questo ambiente diventa un campione.